Ciao a tutti e benvenuti a questo video dove vi mostrerò la realizzazione di questa card La base della card è un cartoncino che chiuso misura 5 pollici e mezzo per 4 e un quarto Ho utilizzato questa fustella della Spellbinder per creare un frame utilizzando la fustella più grande del set con questo cartoncino tinta craft Poi ho preso la fustella, quella leggermente più piccola e ho utilizzato questa pagina di dizionario per creare un'altra frame con una texture di fondo Quando faccio una card provo sempre man mano che creo i pezzettini come stanno poi nella composizione Qui decido anche di utilizzare un rettangolo tinta avorio su cui poi appoggiare il frame che ho creato Ed ecco che nel complesso la base della card sarà così Poi prendo del pizzo marrone, lo appoggio sulla card e studio la composizione e taglio una fettucina della lunghezza giusta che poi andrò a fissare sul retro del cartoncino avorio utilizzando del nastro di adesivo resistente Prendo la colla stick e metto il pezzettino di dizionario sopra un foglio di carta bianco perché non si sporchi incollando E poi appoggio frame su frame Con il distress vintage photo distresso bene il bordo del frame più grande Riguardo la composizione e utilizzo del biadesivo spessorato per attaccare il rettangolo avorio sulla card arancione Utilizzo invece del biadesivo normale, sottile per attaccare il frame E passiamo al soggetto della card Su un foglio di carta cartoncino bianco timbro questo pulcino Utilizzando l'archival ink nero e lo coloro acquarellando il distress Utilizzo il distress space marmalade per colorare il becco e le zampe Poi per colorare il corpo del funcino Do una prima passata con l'antique lime E do una seconda colorazione con lo scattered straw Sono i due colori gialli più tenui della distress Pulisco il tavolo con l'acqua E comincio a ritagliare il pulcino Utilizzo di nuovo il biadesivo spessorato per attaccare il pulcino alla card e dare della tridimensionalità a tutto il lavoro Comincio a preparare gli abbellimenti Ho scelto dei fiori Utilizzo questa fustella della Sessix Decido di fare un fiore un po' particolare utilizzando anche del vellum sullo strato più basso del fiore Ho ritagliato un ulteriore strato abbastanza grande che poi però non utilizzerò La card è piccola i fiori non possono essere giganteschi Una volta ritagliate tutte le parti del fiore ripongo la big shot e prendo un tappettino morbido e il bulino più grande che ho Faccio un po' di lavorazione dei fiori per dargli una tridimensionalità La tecnica è sempre quella Prima lo metto su un lato e passo bene tutti i petali poi lo giro sull'altro lato e premo bene nel centro Indifferentemente da quanto è grande il fiorellino che sto lavorando Prima da un lato e poi dall'altro si preme il centro Sono soddisfatta anche del risultato sul vellum Nel frattempo ho acceso la mia pistola a caldo in maniera che vada a temperatura Inizio ad assemblare i fiori mettendo prima il vellum trasparente poi il fiore di media misura arancione ed infine il fiorellino marrone E assemblo tutti e tre i fiori Quando incollo con il bulino do un po' di pressione nel centro del fiore per fare in modo che tutto si attacchi bene e la forma tridimensionale sia ben chiara Distresso quel vintage foto il bordo del vellum Decido dove mettere i fiori e li attacco con la pistola a caldo Infine utilizzo le glue docce con dei brillantini Tinta a topazio da mettere nel centro di ogni fiore Ed ecco che la card è terminata Vi ringrazio per aver seguito questo video se vi è piaciuto mettete mi piace e iscrivetevi al mio canale per essere informati su quando usciranno i prossimi Grazie mille e ciao